Ma direi che è una serata impeccabile, veramente impeccabile. Continua la grande bellezza in qualche modo, è il momento di Roma questo, tra il film di Sorrentino e questo grande evento, però è un evento artistico questo qua, non è un evento di moda, è un evento di un grande artista che ci ha fatto vedere questa sera delle cose di alta classe, di alta raffinatezza, alcune nella semplicità raffinata, altre invece come un gran pittore. Lo vedo negli altri, ma beh questa è sua, quindi quando vado ai venti mi dà sempre una mano a questo, è molto carino in questo, beh dà sempre eleganza, dipende sempre molto da chi porta poi quelle cose là, devi avere anche un certo fisico, non è che devi essere perfetto, però è sempre un tocco di eleganza, ha dato l'eleganza anche a chi non era in grado di poterla portare, invece lui a tante persone le ha rimesso a posto, altre non è possibile perché magari sono proprio dei disastri, però quello che ho visto stasera è una cosa di alto livello, molto raffinata, molto bella.